preso questo è un pelo ragazzi oltre a quello davanti ma c'è proprio un pelo esagerato ma c'è più che l'obbaccia quello si però non vogli dà figaro sono i tatuaggi dei trialisti c'è un video con tutti i tatuaggi se non hai quelli è perché non fai abbastanza è tutto rotto ci sta sembra il seguidores che ti dice dietro dov'è ok 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 Grazie per la visione!